Il 5 maggio anche i docenti universitari incroceranno le braccia. A proclamare lo sciopero è il CIPU, il coordinamento interseghi professori universitari di ruolo. Dopo la proclamazione dello sciopero da parte di GIL degli insegnanti, CGL, CISL, WIIL e SNALS, quindi si allarga il fronte della mobilitazione contro le politiche del governo sull'istruzione. La giornata di mobilitazione promossa dal CIPU prevede la sospensione per tutta la giornata delle lezioni e assemblee nelle università. In una nota il CIPU spiega i motivi dello sciopero. Chiede il coordinamento interseghi professori universitari di ruolo, l'eliminazione dei vincoli del turnover, l'introduzione del docente unico, la stabilizzazione del precariato e la modifica radicale dei meccanismi di valutazione dell'attività di ricerca. Tra le rivendicazioni del CIPUR, anche l'assegnazione all'università di risorse adeguate per la ricerca e il ripristino degli scatti stipendiali. Le anticipazioni che sono circolate nei giorni scorsi in merito alla riforma dell'università, conclude il CIPUR, prefigurano un totale snaturamento dell'università e della docenza universitaria. Ecco perché quindi il 5 maggio abbiamo deciso di proclamare lo sciopero.